Il gruppo immobiliare IN propone in zona Trento Sud, immerso nel verde in una recentissima palazzina, un appartamento di 105 metri quadri commerciali con due ampi terrazzi. Si compone di soggiorno con uscita sul terrazzo tutto a sud, con cucina abitabile con uscita sempre sul terrazzo, due stanze da letto di cui uno con uscita sul secondo terrazzo, due bagni di cui uno finestrato e a piano interrato cantina e garage di proprietà. Il riscaldamento è con il conto a kilocalorie. Internamente l'appartamento è tenuto in ottime condizioni e viene venduto completo della cucina.